Anche in Torzenna ragazzi, tutti devono aprire le plastiche, aprite tutti le plastiche, aprite le plastiche e tenete le buste aperte. Ragazzi, tenete in mano l'officione bianco in Torzenna, cominciate a slegare e tenete in mano, va fatto salire verso l'alto quando ve lo dico io. Aspettate, 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 tenete aperte le plastiche, tenete aperte le plastiche, ragazzi quando ve lo dico io fate salire quello che ha.